La Corte di Cassazione ha confermato, rendendola definitiva, la sentenza con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva detto sì alla richiesta di risarcimento presentata da un cittadino, il quale ha fatto causa al proprio vicino di casa a causa del continuo abbaiare dei cani di quest'ultimo, che non gli consentiva di dormire la notte. Una sentenza che potrebbe fare giurisprudenza in materia. Il ricorrente, nel chiedere il risarcimento o danni, ha fatto presente che il non dormire correttamente nel corso delle notti gli ha causato dei problemi di salute. Sembra infatti che i due cani del vicino non smettessero quasi mai di abbaiare, causando così dei disturbi al ritmo sonnoveglia della persona in questione, la quale ha anche perso il lavoro. Oltre al risarcimento o danni, il proprietario dei cani dovrà anche saldare le spese processuali, che i giudici hanno quantificato in 2.700 euro.